Milly Carlucci mette le mani avanti sulla sfida degli ascolti con la De Filippi, non siamo in competizione con nessuno. Domani sera avverrà il primo scontro televisivo della stagione tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Rai 1 darà il via alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle, che troverà su canale 5, almeno fin quando non inizierà amici, c'è posta per te. Lo scontro con gli show e gli ascolti sempre eccellenti dalla regina di Mediaset non sembrano preoccupare la Carlucci che, a tal proposito, durante la conferenza stampa del suo programma ha dichiarato. Non siamo in competizione con nessuno, quando i programmi partono sfalsati o ognuno fa la propria corsa. Ci siamo sforzati di essere sorprendenti verso il nostro pubblico, questo ci interessa. Non ha senso il dato numerico. Capisco possa essere interessante per voi da scrivere, ma non è il nostro parametro, visto come è fatto il palinsesto quest'anno e come lo era negli scorsi anni. Capisco possa essere sorprendenti verso il nostro pubblico, perché non è 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 il nostro pubblico,